È proprio vero, in fotografia più soldi spendi e più cose riesci a fare. Eppure nel video di oggi andrò a spiegarvi 5 motivi per cui comprare una strumentazione fotografica costosa potrebbe non essere una buona idea. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia. In questo video vado a raccontarvi perché potrebbe essere vantaggioso essere parsimoniosi quando si tratta di acquistare un corredo fotografico e tutto quello che vi dirò vale anche per il video. A proposito di video, in questo momento state vedendo un video girato con Canon EOS R50, una fotocamera che mi è stata mandata in prova direttamente dalla casa. Farò dei video su questa macchina nei prossimi episodi per cui fatemi delle domande adesso in maniera tale che io possa poi rispondervi avendo ancora la macchina in mano. Per tutti quelli che non l'hanno ancora fatto e vedo che siete almeno il 60% di quelli che fruiscono abitualmente i miei contenuti, il mio invito è quello di iscriversi in maniera tale da non perdervi i prossimi contenuti. Molto bene, ma andiamo subito col primo motivo per cui potrebbe non essere la cosa migliore del mondo acquistare un corredo fotografico costoso. Il primo motivo sono proprio i soldi, perché se è vero da un lato che per un amatore un esborso del genere può essere molto pesante e sono soldi che non gli rientreranno mai più dal momento che non ci guadagna, visto che è un amatore, dall'altro lato anche per il professionista può essere un azzardo comprare una strumentazione troppo costosa. Questo perché innanzitutto hai del capitale che esce e quindi da professionista devi tenere d'occhio i flussi di denaro di entrata in uscita, non puoi permetterti di comprare qualsiasi cosa. Il secondo motivo è che da professionista tu sai benissimo che acquistare una nuova strumentazione da un lato non è sinonimo di guadagnare di più e dall'altro non ti garantisce che la tua attività continui ad andare bene, quindi bisogna prevedere dei periodi di magra e essere parsimoniosi, avere sempre delle riserve di liquidità, quindi non si può spendere e comprare tutto quello che ci viene in mente, altrimenti ciaone. Il secondo motivo, strettamente connesso a questo primo motivo, verte sempre un po' sul prezzo, però è un argomento lievemente diverso, ovvero nel momento in cui noi dovessimo sostituire la nostra strumentazione, e guardate che sono cose che capitano, la nostra strumentazione in questo momento è in nostro possesso, però noi possiamo perderla, danneggiarla o possiamo subire un furto. Ora, se io ho acquistato una strumentazione di media fascia, non dovrebbe costarmi troppo rimpiazzarla? Se mi si dovesse rompere anche la mia macchina principale, io sono seccato, però non sono sul lastrico all'idea di doverla ricomprare. Se avessi acquistato un corredo da 12.000 euro, ecco che non riuscirei a rimpiazzarlo, dovrei, nel momento in cui dovessi andare a fare una sostituzione, dovrei andare a scendere, dovrei andare a rimpiazzarlo con qualcosa di inferiore, e quindi avrei un calo qualitativo nel mio lavoro, lavorerei peggio magari perché sono abituato a una strumentazione superiore, mi sono abituato a una strumentazione più progredita e devo tornare indietro, quindi sarebbe una cosa poco piacevole anche per il mio flusso di lavoro. E in definitiva sarebbe un investimento che si è rivelato perdente perché probabilmente non la ricomprerei più la cosa costosa che mi ero già comprato, perché a quel punto la compri costosa, subisci un furto, un danneggiamento o qualsiasi altra cosa e ripieghi su qualcosa di più economico, a quel punto non la ricompri più quella costosa, rimani su quel qualcosa di economico perché con l'idea che possa ricapitare non lo fai più. Arriviamo al terzo motivo e questo potrebbe anche giocare a nostro favore, ma vedremo perché non sempre è così. Tenete conto che se siamo professionisti, ma questo vale anche se siamo amatori e facciamo qualche lavoretto ogni tanto, se siamo professionisti noi non possiamo uscire a fare un lavoro da 100 euro con una strumentazione da 10.000 euro, cioè se abbiamo comprato un'ammiraglia con un'ottica costosa non possiamo andare a fare la partita di calcetto del nostro amico e farci dare 100 euro, cioè sì possiamo anche farlo, però stiamo rovinando la professione perché magari c'erano dei professionisti che si facevano pagare, che andavano a fare quello stesso evento e noi gliel'abbiamo soffiato in cambio di una miseria, cioè siamo ricchi e stiamo giocando a quel punto, però stiamo rovinando un settore. Quindi se siamo ricchi e stiamo giocando, vabbè, io non vi dico neanche niente, se vi divertite va bene, per carità, però se questa diventa un'abitudine state rovinando un settore di gente invece che ci lavora. Per chi invece ci lavora fare un upgrade di strumentazione di questo tipo significa che se prima andavamo con una compatta, fare una partita di calcetto del nostro amico e gli chiedevamo 100 euro, se abbiamo speso 10.000 euro di corredo non possiamo più uscire a 100 euro, dobbiamo alzare la cifra. Se abbiamo sbagliato l'investimento, quindi se abbiamo preso una strumentazione troppo costosa per il nostro target di riferimento, la cifra che dobbiamo chiedere per uscire con quella strumentazione ci mette fuori mercato. Quindi le cose sono due, abbiamo sbagliato l'acquisto in ogni caso, perché o chiediamo una cifra troppo alta e quindi siamo fuori mercato, oppure chiediamo una cifra troppo bassa e quindi stiamo uscendo con 10.000 euro di corredo per guadagnare 100 euro. In ogni caso abbiamo sbagliato l'acquisto. Arriviamo al quarto motivo ed è una cosa che molti non tengono in considerazione, ma che secondo me è da considerare e che ci deve anche far preoccupare un po'. Una fotocamera costosa, un corredo costoso richiede un ecosistema costoso. Nel senso che se io compro un'ammiraglia, poi devo comprare delle memory card da ammiraglia, non posso usare le stesse memory card che utilizzavo per la GoPro, non vanno bene, ci vuole qualcosa di più prestante e più costoso. Se io finora ho editato le mie foto su un vecchio computer con Windows Vista, adesso non va più bene, adesso devo fare un upgrade di sistema operativo e di RAM e di tutto quello che ci gira intorno e di software per gestire il flusso di lavoro. Quindi aver acquistato un corredo costoso mi porta a dover fare degli altri investimenti che girano intorno a questo corredo costoso. Pensiamo anche alle ottiche. Io compro una fotocamera costosa e poi gli metto davanti un lentino da 100 euro. È un peccato. A questo punto suddividevo meglio le spese, prendevo una macchina da 1000 euro e un'ottica da 1000-1500 euro. Prendere una macchina da 4000 euro e mettergli davanti un'ottica da 300 euro è veramente un po' uno spreco. Quindi teniamo ben conto che comprare la macchina, il primo obiettivo, non è tutto lì. Ci vuole poi un ecosistema intorno che ci mette in grado di, se non lavorare, quantomeno fare delle cose che vogliamo fare. Però questa cosa ci porta comunque a spendere tanto di più di quello che avevamo preventivato inizialmente. Sempre parlando di ecosistema, veniamo al quinto motivo, che forse è quello che vi convincerà di più. Ovvero una fotocamera più è costosa e più in teoria, parliamo delle macchine principali sul mercato, più la fotocamera è costosa e più è in grado di far fronte a delle condizioni estreme. L'inclemenza del clima, macchine più costose sono tropicalizzate, una buona resistenza agli alti iso, quindi lavorano bene anche in condizione di scarsa luminosità. Sono tutte caratteristiche di corpo e macchine e obiettivi più costosi, più evoluti. Ovviamente più spendiamo, più siamo in grado di lavorare bene anche in un contesto dove la luce è sacrificata, dove la scena non ci aiuta. Però qui casca l'asino. Perché magari molti, e non punto il dito necessariamente contro di voi che mi state seguendo, però molti là fuori, che magari non seguono ancora i miei video, e quindi adesso se li andranno sicuramente a recuperare, molti pensano io spendo di più così poi la macchina lavora al posto mio. Ora, questo in minima parte può essere vero. Se io compro una macchina di media fascia, sicuramente la macchina si prenderà cura di determinati processi, magari anche al posto mio, e io potrò fare meno fatica. Questo è vero. Per esempio, io in questo momento sto utilizzando una Canon EOS R50 che mette a fuoco da sola e si prende cura di tutta una serie di procedimenti al posto mio, quindi io posso fare meno fatica, sono dispensato dal fare determinate cose verissimo. Però è vero anche che all'aumentare del prezzo aumentano anche le caratteristiche delle macchine che andiamo a comprare. Una fotocamera molto evoluta, una fotocamera professionale, avrà così tanti bottoni che faremo fatica a trovare quello giusto. Una macchina professionale ha così tante funzioni che non sempre riusciremo a dirle quello che vogliamo fare, e quindi faremo fatica a utilizzare quella macchina. Ricordiamoci che più una macchina è professionale e più richiede uno sforzo anche da parte nostra, perché una macchina professionale la stiamo sfruttando veramente solo se usiamo i bottoni personalizzati e solo se la impostiamo nella maniera giusta per lo scatto che vogliamo fare. Una fotocamera altamente professionale darà al massimo solamente se noi ci mettiamo la nostra testa e il nostro corpo per gestirla al meglio. Ecco perché comprare una fotocamera ipercostosa può essere la scelta sbagliata nel senso che non si traduce automaticamente in una fotografia migliore. Magari a parità di condizioni, in una fotografia normale, sì, si traduce in una fotografia migliore perché quella macchina più costosa con quel sensore, con quel processore, lavora meglio. Però globalmente non abbiamo aggiunto granché alla nostra potenza di fuoco se non appunto la pura prestazione della macchina che però a un certo punto si ferma laddove dovrebbe entrare in gioco la nostra di prestazione e se noi non siamo capaci di nuovo abbiamo fatto un acquisto che ci è costato molto di più e potevamo prendere qualcosa di intermedio che ci avrebbe probabilmente fornito un risultato simile a facendoci pagare di meno e mettendoci sia a disposizione meno opzioni ma questo avrebbe avuto il risultato di confonderci meno nella scelta delle varie impostazioni da dedicare a tutti i vari comparti foto e video della nostra strumentazione. Molto bene amici, con questo credo che siano tutti i motivi che mi sono venuti in mente per fare molta attenzione quando decidiamo di acquistare un corredo fotografico costoso se ve ne vengono in mente degli altri se reputate che qualcuno di quelli che io ho elencato sia errato, parziale o incompleto fatemelo sapere come sempre nei commenti io vi invito come sempre a iscrivervi al canale perché risponderò alle domande che mi fate nei commenti tramite degli shorts verticali quindi se vi iscrivete subito non andate a perderveli fatemi sapere anche che cosa ne pensate della qualità video di Canon EOS R50 una fotocamera che è stata pensata per Content Creator quindi questo dovrebbe essere un po' il suo pane stiamo girando in 4K a 23 frame al secondo aspetto di sapere che cosa ne pensate io vi ringrazio come sempre di aver passato con me un po' del vostro tempo e vi do come sempre appuntamento al prossimo video e vi ringrazio come sempre a tutti